La prima palla due intanto alzata dell'incontro, palla ancora per Milazzo, il passaggio in the pocket per il tiro da due punti e il primo canestro, palla per Mesdag che torna fuori per il tiro da tre punti di Aston Dura che non concede l'uscita a Washington, adesso la palla dentro per Kaczmarczyk, Mesdag che guida la transizione, il taglio bellissimo di Endur. La transizione allora per San Martino con la palla per Delish Washington che si prende il palleggio, arresto il tiro dalla lunetta, di Schio, ancora l'eccezione di Mabry che parte in uno contro uno e va ad appoggiare sicuramente, qui bellissima palla dentro, pazzesco come comunque con Sottana che si intende a meraviglia eh. Qui Washington che ritorna da Verona, ancora Verona prende, si palleggia arresto il tiro, Verona che va in consegnato con Milazzo che prende l'arresto il tiro di Dedic, ancora Washington a giocare l'uno contro uno, brucia tutta la difesa. La finta di Mesdag, lo scarico fuori ancora per Sottana che prende il tiro da tre punti, se lo sentiva dopo i primi cinque punti realizzati, qui la bellissima palla in transizione di Milazzo. E Pastrello raddoppiata dalla difesa, la palla che esce per il taglio, dopo ancora Di Pastrello che sbaglia sotto, ma Bedic ha velocissimo rimbalzo per l'ottima rotazione difensiva di San Martino e Lupio, subito dentro la palla dall'altra parte per Dedic. Milazzo ricevere la palla, giocare sui blocchi, ancora spezzare la doppia, prendersi il palleggio, arresto il tiro dalla lunetta, puntetto con tante guardie per Schio appunto, il tiro da lontanissimo da parte di Mesdag. Sta marcando benissimo adesso. Ancora la palla dentro per Verona, sul blocco Cecolo, la palla fuori per Janeljic, che ribalta per Verona, che si alza senza paura da tre punti. A recuperare la palla subito per Russo, in reversa, realizzare i due punti. La palla in the pocket, fuori per il tiro da tre punti di Milazzo, che realizza la tripla del più sei. A fare la voce grossa, da un extra possesso a Schio, fuori ancora la palla per Sottana. Schio intanto col possesso in attacco, con la palla nelle mani di Sottana, che torna da Mabry, che realizza la tripla con il fallo. La palla fuori per Cazmarcic, che torna da Milazzo, che con lo step back si prende un altro tiro in faccia a un gol. Palla nelle mani di Washington, Washington contro Mabry, torna la palla fuori per Milazzo, che si alza da tre punti e realizza un'altra tripla. Sfortunata questa volta deliscia Washington, però sono già dall'altra parte le giocatrici di Schio, con la palla fuori per Mabry, che si alza da tre punti. Di Schio, battuta facilmente da parte di San Martino di Luperi e Cazmarcic. Sottana all'uno contro uno, la palla in angolo, fuori per Kies, Kies che si gira sui perni. Buona difesa di San Martino di Luperi, ma più brava Kies a realizzare. Sembra un remake di Campobasso. Fuori la palla per Washington, che prende il tiro, che è lungo però sul secondo ferro. Finisce così a San Martino di Luperi.